ariete potreste compiere una serie di progressi che vi daranno un netto vantaggio sui vostri avversari non cullatevi sugli allori però battete il ferro finché caldo toro oggi avrete un'occasione per dimostrare quanto sapete essere attenti e rispettosi dei sentimenti altrui gemelli bacone sosteneva che sapere è potere ma non sarà tanto il sapere a darvi un vantaggio sugli altri quanto la vostra capacità di sfruttarlo in vostro favore cancro lavorerete con più impegno del solito otterrete risultati proporzionali al vostro impegno anche i vostri detrattori ne saranno positivamente colpiti leone dovrete correre più rischi di quanto non siate abituati a fare oggi ma la situazione vi ha propizia e non siete mai stati tanto sicuri del fatto vostro vergine potreste non condividere le valutazioni fatte da qualcun altro oggi ma dovrete ammettere che neanche voi avete colpito molto nel segno entrambi dovrete rivedere i vostri giudizi bilancia potreste non sentirvi sostenuti come avevate sperato oggi dovrete contare principalmente sulle vostre forze ma per fortuna anche l'impresa da affrontare sarà meno impegnativa del previsto scorpione potreste non volere ancora rivelare i vostri piani agli altri quando sarete pronti non esiterete ad illustrarli nei dettagli sagittario forse non avete ancora portato a termine un certo compito ma perché arrendersi proprio ora avete ancora tempo e risorse per portarlo a buon fine capricorno non riuscirete a vedere le cose in modo obiettivo oggi perché siete troppo coinvolti a livello emotivo astenetevi da prendere decisioni importanti acquario concentratevi sui compiti che vi sono stati assegnati senza però trascurare i vostri obiettivi personali le due cose possono procedere di pari passo pesci potrebbe giungervi voce che qualcuno parla male di voi alle vostre spalle meglio conoscere i propri nemici